Buongiorno, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In apertura alla cronaca, due carabinieri sono stati arrestati e quattro persone indagate a vario titolo nell'ordinanza di misura cautelare firmata dal GIP Guendalina Buccella del Tribunale dell'Aquila. L'inchiesta è incentrata sulla condotta dei due carabinieri della stazione di San Salvo, finiti ai domiciliari, indagati per reati vari, quali peculato in concorso tra loro, accesso abusivo del sistema informatico telematico e rivelazione del segreto istruttorio e detenzione illegale di munizioni. Ascoltiamo Alfredo Primante. L'arresto ai domiciliari del comandante della stazione di San Salvo dei Carabinieri, Antonello Carnevale del maresciallo Giuseppe Mancino, è stato un fulmine a ciel sereno che ha scosso ieri l'intera comunità. Dovranno spiegare perché 1.490 euro in banconote contraffatte non sono state sequestrate. I due, difesi rispettivamente da Alessandro Orlando e Fiorenzo Ceri, negano e sono accusati di peculato perché, secondo la ricostruzione della Didia Aquilana, nell'aprile scorso avrebbero prelevato denaro falso dall'auto di un pregiudicato locale fermata per un controllo. Per altre 910 euro, però, era scattato il provvedimento e la verbalizzazione da parte di altri militari della stessa stazione. Il sequestro sarebbe stato omesso anche per altre banconote di prova ricevute il giorno prima da Carnevale da una fonte confidenziale. Il maresciallo Mancino, inoltre, è accusato di divulgazione di segreto istruttorio perché avrebbe passato via smartphone intercettazioni videoambientali riguardanti un caso di cronaca, il tutto durante la fase delle indagini preliminari. Secondo la Didia Aquilana, inoltre, avrebbe effettuato accessi abusivi al sistema informatico investigativo per interrogare il database per, come si legge nell'ordinanza, ragioni estranee all'attività propria dell'ufficio e del servizio istituzionale svolto. Nell'abitazione del maresciallo Mancino, infine, sono state trovate sei scatole di munizioni da guerra calibro 9 Parabellum detenute illegalmente. Nell'inchiesta partita, inizialmente da Chieti per poi essere spostata all'Aquila, sono indagate quattro persone. Gli arresti di ieri arrivano a soli cinque giorni dal Consiglio Comunale straordinario durante il quale il sindaco Tiziana Magnacca conferirà la cittadinanza onoraria di San Salvo alle forze dell'ordine Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza per ringraziargli delle svariate operazioni contro la criminalità. Per quanto riguarda invece Carnevale, aveva ricevuto il riconoscimento a campo basso di comandante di stazione 2017 per meriti di servizio. E adesso ci spostiamo a Pescara dove il sindaco Carlo Masci questa mattina è stato a Fontanelle con il capogruppo DC Massimiliano Pignoli. È solo la prima tappa del tour nelle periferie, i residenti però sono stanchi, chiedono fatti e poche parole. A Fontanelle prima tappa del tour nelle periferie per il sindaco Carlo Masci, scortato dal capo della Polizia Municipale, dal consigliere comunale Massimiliano Pignoli che si è autodefinito il sindaco delle periferie. Per quanto riguarda le case comunali si sta intervenendo sulle cinque palazzine di nostra proprietà, su quelle ater noi sensibilizziamo ma ha avuto assicurazioni dall'ente che sono in atto le gare d'appalto e per metà fino a ottobre inizieranno anche lì i lavori. Il sindaco vero e proprio invece ha incontrato i residenti del quartiere che lo hanno incalzato a proposito dei lavori di manutenzione delle case popolari. Infatti dai soffitti continua a piovere e la situazione è ancora più critica dopo la violenta grandinata di quest'estate. A riguardo le case fanno schifo, parliamoci chiaro e è inutile che stiamo a nasconderci. Il comune rimbalza la palla all'ater, l'ater lo rimbalza il comune, però nessuno fa niente. Tutta altra questione invece le case di proprietà ater. L'azienda infatti continua a non rispondere e i cittadini si sentono abbandonati nelle proprie abitazioni fatiscenti. Noi siccome siamo altre persone, veniamo da un altro pianeta, facciamo parte dell'ater, non c'è il rappresentante dell'ater. Il primo cittadino ha annunciato che stabilirà nel quartiere popolare un presidio fisso della polizia municipale, in linea con la sua politica di controllo delle strade. Guarda, per ora a noi ci interessa la casa perché la criminalità, noi la sera rientriamo all'una, alle due, non abbiamo questi problemi. Ci sarà pure, non è che dobbiamo nasconderci, però non è che li fanno come nelle altre zone. Paura c'è a stare dentro casa, non per strada. Sì, però dentro casa ormai noi ci conosciamo tutti, sono 30 anni che siamo qua. Abbiamo avuto problemi ben peggiori. Voltiamo pagina col nostro telegiornale, ricorso alla Corte d'Appello dell'Aquila da parte della Procura di Pescara contro la sentenza del GUP Gianluca Sarandrea, che il 10 luglio scorso ha assolto, nell'ambito del procedimento con rito abbreviato sul caso Pescara Porto, tutti gli imputati. L'accusa, rappresentata dal procuratore capo Massimiliano Serpi e dall'aggiunto Anna Rita Mantini, aveva chiesto condanne comprese tra i 6 e i 10 mesi di reclusione per l'ex governatore Luciano D'Alfonso, il funzionario del genio civile Vittorio Di Biase, l'avvocato Giuliano Milia, il direttore generale del comune Guido Dezio e l'ex segretario alla presidenza della regione Claudio Ruffini. Le ipotesi di reato sono quelle di falso in atto pubblico e abuso d'ufficio, riguardano la variazione della destinazione d'uso del complesso edilizio che la società Pescara Porto, della quale fanno parte i figli dell'avvocato Milia, intendeva realizzare sul lungomare sud di Pescara. E cambiamo argomento, ieri pomeriggio è durata 6 ore la fuga di Luis David Pollutri, il 24enne di Vasto, fuggito da un cellulare della polizia penitenziaria che lo stava accompagnando al Palazzo di Giustizia. La polizia è riuscita a riasciuffarlo e riportarlo in carcere. Ascoltiamo l'intervista di zona locale al vicequestore aggiunto del commissariato di Vasto, Fabio Capaldo. Abbiamo diviso il territorio in zona e le abbiamo battute a più riprese, fin quando nel pomeriggio abbiamo deciso di tornare in via Casetta, in quella che era considerata la direzione di fuga dell'Evaso. Siamo scesi nelle campagne, nei rovi circostanti, probabilmente questa azione ha disturbato il Pollutri perché lo stesso lo ci ha dichiarato che era presente, si era nascosto in quegli anfratti, come ci ha visto si è allontanato, però poi ha capito che ormai non aveva più scampo perché nel mentre in via Casetta erano aggiunti ulteriori equipaggi della Polizia di Stato. è stato bloccato in quella zona, non ha opposto resistenza, si è cambiato di abbigliamento e agli operatori inizialmente ha dichiarato di chiamarsi Antonio cercando di evitare l'arresto. La pericolosità sociale del Pollutri è notevole, ha precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, addirittura ha tentato di investire due carabinieri, quindi penso che oggi la Polizia di Stato in città e a vasto ha raggiunto un risultato importante e notevole in pochissimo tempo. Avete chiarito le circostanze della fuga? Le circostanze della fuga andranno chiarite, presumo, con una successiva attività d'indagine. Capite che la concitazione del momento non ci ha permesso di effettuare i relativi accertamenti. Sicuramente sarà innanzitutto la Polizia Penitenziaria a informare la Procura della Repubblica e poi seguiremo gli sviluppi della vicenda. Ancora i quartieri popolari di Pescara, il 5 Stelle Domenico Pettinari è tornato in uno dei quartieri popolari, questa volta si scaglia contro la maggioranza regionale e pretende che venga tolta la casa popolare e condannati. Qui siamo in guerra, questa è una guerra tra chi rappresenta le istituzioni veramente, chi si batte ogni giorno contro i delinquenti criminali. E' in guerra Domenico Pettinari, armato di bandiera tricolore, è tornato a visitare il quartiere popolare di Via Rigopiano. E' una grande vergogna, è uno schifo normativo, un obbrobrio, perché la legge del centro-destra di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e della Lega, presentata da Marsiglio, prevede che i condannati in primo grado e in secondo grado, per reati gravissimi, quale lo spaccio di droga, possono rimanere nelle case popolari. La legge va a colpire solamente i condannati in terzo grado, con sentenze di Cassazione. La proposta del consigliere 5 Stelle è quella di togliere la casa popolare a chiunque riceva una condanna in sede giudiziaria. Se insomma un cittadino delle fasce più povere della nostra comunità, nel corso della propria vita inciampato nella legge, a questo bisognerà levare il tetto da sopra la testa. Non crede che poi potendo levare la casa a chi è pregiudicato, questo possa creare maggiori disagi poi per strada? No, perché già è stato fatto tanti anni fa a Fontanelle, quando si colpirono questi pregiudicati, dato che sono persone ricchissime, persone che guadagnano 4 mila euro al giorno con lo spaccio di droga, persone che si possono permettere altro, quando vengono cacciati loro tornano nelle grandi ville lussuose dei parenti e dei genitori. Una posizione che è destinata a far discutere, secondo alcuni potrebbe sembrare una generalizzazione troppo semplice nell'approcciarsi a questioni delicate come questa, ma il soldato Pettinari respinge le critiche al mittente e tira dritto per la sua strada. Mi stanno accusando a me di essere un giustizialista, no io sono un legalista, loro che invece vanno in televisione e dicono di voler cacciare i delinquenti, i criminali poi alla conta dei fatti, ecco che cosa fanno nelle segrete stanze, questa è una vergogna. Notizie positive per la Bluetech di Atessa, dal tavolo del Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico è uscita la volontà di far continuare l'attività lavorativa nella Val di Sangro. Per la Bluetech di Atessa c'è un futuro produttivo, è positivo il tavolo sulla vertenza aperto presso il Ministero dello Sviluppo Economico che ha di fatto dato il via libera al salvataggio dell'azienda che si occupa di componentistica nell'ambito dell'automotive. Al tavolo tecnico, hanno annunciato gli assessori regionali alle attività produttive Mauro Febbo e al lavoro Piero Fioretti, sono state date rassicurazioni su un'operazione di salvataggio che prevede due momenti, l'affitto del ramo d'azienda per sei mesi e successivamente l'assorbimento dell'interazienda da parte del gruppo Magnetto, società leader nell'indotto dell'automotive. Il passaggio della ex Bluetech al gruppo Magnetto non comporterà sacrifici dal punto di vista occupazionale, i circa 200 dipendenti dello stabilimento di Atessa verranno infatti riassorbiti, confermando in questo modo la tutela dei livelli occupazionali. Il gruppo Magnetto, precisano Febbo e Fioretti, da anni opera con grandi risultati nell'indotto automotive, circostanza questa che dovrebbe rappresentare un elemento di tranquillità per il futuro occupazionale dei lavoratori ex Bluetech. E per quanto riguarda El Foundry invece cambia tutto, le strategie future dello stabilimento avezzanese dopo l'accessione ai cinesi nel servizio di Gioia Chiostri. Il primo ottobre scorso incontro preliminare Romano Almise per il futuro di El Foundry che si svestirà della sua natura attuale aziendale per divenire una IDM, una Spark. Di certo è stato detto che lo stabilimento è stato e quindi la proprietà è stata acquisita da una start-up, questa start-up è stata finanziata per intero, quindi all'interno dei 250 milioni di dollari che sono stati spesi per l'acquisizione, il finanziamento arriva dal governo cinese. I lavoratori sono con il contratto di solidarietà fino a maggio 2020, quindi non siamo fuori dalla crisi. Noi attendiamo il business plan, ci è stato detto che verrà presentato a dicembre, però ecco su questo siamo un po' scettici, nel senso che attendiamo prima di dare delle date, è stato detto anche che sono in attesa della domanda, quindi di capire quante aziende vorranno rifornirsi presso Avezzano. Il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma ha visto la partecipazione di enti e sindacati, assenza pesante quella della Regione Abruzzo nell'espressione della sua maggioranza di governo. Io credo che sia indispensabile e gravissimo che il Presidente Marsilio o l'assessore Febbo o comunque qualcuno in rappresentanza di questa maggioranza ad oggi ancora non abbia chiarito perché non hanno preso parte a questo tavolo. E adesso andiamo a Lanciano dove il gestore uscente del mercato coperto continua nelle operazioni di smantellamento dei locali interni. Nel frattempo Sindaco e Giunta hanno dato mandato all'avvocatura comunale per eventuali querele in relazione alle dichiarazioni del gestore stampate sui manifesti affissi il 30 settembre. Vediamo il servizio. Ancora due giorni nel parcheggio di via Perfrisa per gli ortolani di Lanciano sfrattati anzitempo dal mercato coperto di Piazza Garibaldi dove il gestore uscente sta svuotando da giorni la struttura di banconi e attrezzature varie. Una decisione che ha accolto tutti alla sprovvista. Senza preavviso infatti utenti e operatori del mercato coperto si sono trovati il 1 ottobre le porte chiuse e i vetri oscurati con della carta opaca. L'amministrazione comunale prosegue nel recupero dell'immobile secondo i tempi dettati dalla sentenza del TAR dichiara l'assessore al commercio Francesca Caporale. Andiamo avanti questo perché il TAR ci ha dato ragione e quindi l'ordinanza è ad oggi valida. Il 10 ottobre, quindi giovedì mattina della prossima settimana, alle 11 potremo entrare all'interno della struttura. Fino alle 10 Franco D'Alessandro potrà restituire in maniera volontaria le chiavi per poter entrare all'interno, altrimenti entreremo noi con il supporto degli operai, dei lavori pubblici e di chi altro. Dopo il rientro in possesso della struttura, il mercato coperto resterà aperto per il momento solo nelle giornate del mercoledì e del sabato, anticipa l'assessore. Spero che sia possibile rientrare già a partire da sabato, dalla prossima settimana e iniziare a gestire il mercato ovviamente con delle aperture limitate. Infine non sono passate inosservate le dichiarazioni contenute nel manifesto denuncia a firma del gestore Franco D'Alessandro. Sono al vaglio dell'avvocatura comunale. Assieme al sindaco e a tutti i membri della giunta abbiamo dato mandato all'ufficio avvocatura di proseguire con quelli che sono gli atti dovuti. Comunque definire una giunta che rappresenta un'intera città criminosa è come dire un'intera città che comunque ha scelto alla propria guida persone che non sono in grado e che agiscono in maniera illegale. Adesso inauguriamo la pagina sportiva del nostro telegiornale con una notizia che in realtà è molto poco sportiva. Finisce sotto la lente della procura federale il trasferimento di José Macin al Parma sul quale dovrà far luce il Tribunale nazionale dopo i deferimenti che hanno colpito la società del Fino Pescara. Il presidente Daniele Selbastiani, il giocatore e il responsabile marketing Pietro Falconio. È l'onda lunga di un trasferimento che lo scorso fine gennaio aveva fatto discutere, quello di José Macin dal Pescara al Parma e che ora sfocia nel provvedimento della procura federale che ha deferito davanti al Tribunale federale nazionale la società del Fino Pescara, il presidente Daniele Selbastiani, il calciatore José Macin e il collaboratore della società Pietro Falconio, responsabile del settore marketing. È proprio intorno alla figura di quest'ultimo che ruota il deferimento poiché da persona addetta alle vendite nello store ufficiale del Pescara e assunto da una società partecipata al 100% dalla Delfino Pescara e successivamente appunto responsabile marketing della società Bianca Azzurra, ha preso parte alla costituzione della società di procura sportiva SP Group SRL di Simone Pepe con quota del 40%, dunque in posizione di conflitto di interessi. La stessa società con cui Macin ha sottoscritto un contratto di procura poco prima dell'operazione di trasferimento del calciatore guineano al Parma. A Sebastiani, Falconio e Macin la procura contesta la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità di cui è l'articolo 1 bis coma 1 del codice di giustizia sportiva. Sebastiani per non aver evitato la già citata situazione di conflitto, Macin per, si legge nel deferimento, aver stipulato in data 31 gennaio 2019 un contratto di rappresentanza con la società SP Group SRL comunicato alla Commissione Procuratori Sportivi il 4 febbraio 2019, apponendovi falsamente la data del 28 gennaio 2019. De Fino Pescara, deferita per responsabilità diretta e oggettiva. La vicenda è scaturita da una denuncia dell'avvocato Donato Di Campli, procuratore di Macin, fino allo scorso gennaio. Il presidente Sebastiani ha detto di essere stato già ascoltato alcune settimane fa e ha fatto sapere che, dal suo punto di vista, società e deferiti sono estranei alla vicenda e che non rischiano nulla, in particolare perché, quando Falconio è diventato responsabile marketing, ha smesso di essere socio della società di procura. Dunque, ben prima di questa operazione. Fatti che ora saranno vagliati dai giudici del Tribunale federale nazionale. In caso di eventuale condanna, la società rischia fino ad un'ammenda. I deferiti rischiano, nella peggiore delle ipotesi, una squalifica. Ma torniamo a parlare di calcio giocato. A proposito di Pescara, proprio in questo momento il mister Luciano Zauri sta presentando la formazione che scenderà in campo contro l'Ascoli. Se i tempi della conferenza stampa ce lo permetteranno, tra pochissimo ascolteremo le sue parole. Ma intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale, con la Serie C. In controtendenza, rispetto a quanto filtrato nei giorni scorsi, il Teramo non cambia. Il diavolo in campo stasera, alle 20.45, nell'anticipo del Bonolis contro il Rieti, in cui dovrebbe confermare la formazione base, cercando una vittoria indispensabile per riprendere la marcia in campionato. Ascoltiamo Jacopo Forcella. Nessuna rivoluzione. Il Teramo stasera al Bonolis, impegnato nell'anticipo contro il Rieti, non dovrebbe cambiare la formazione titolare. Troppo importante per il tecnico Bruno Tedino e per la squadra ritrovare punti e serenità dopo Monopoli. Così Arrigoni, in ballottaggio con Viero, dovrebbe partire dal primo minuto, Magnaghi e Cianci coppie d'attacco con Bombagia rifinirli e Mungo arretrato nel ruolo che ormai è quello di Mezzala. Diero torna la difesa a quattro con Cristini dal primo minuto insieme a Piacentini, aspettando il ritorno di Soprano con Di Matteo e Cancellotti a presidiare le corsie laterali. Diciamo che se non si può giocare da dietro e non te lo permettono, devi trovare delle alternative. È quello che a noi è mancato per via Monopoli. A Monopoli ci hanno aggredito altissimo e non siamo riusciti a mettere una palletta morbida sopra per accorciare e poi fare un altro tipo di gioco. Questi sono dei limiti che ha avuto l'allenatore nel trasferirlo e una squadra che non ha avuto il genio e la comprensione di farlo. Però il termo, secondo il mio punto di vista, ha fatto delle partite buone come squadra e meritava molto di più. Questo ormai dobbiamo dimenticarlo, come ha fatto delle buone partite e mi ha fatto anche delle partite scandalose, come questa qui, che è l'unica vera scandalosa. Vengono da una situazione difficile anche loro e quindi quando si trovano delle squadre che sono disposte a tutto per far punti è la situazione peggiore. Però noi in casa di altri siamo abituati a non parlare, anche se è noto che invece gli altri guardano spessissimo in casa nostra. Noi guardiamo il nostro, dobbiamo fare il nostro, lavorare per quello che ci è consentito e portare questa squadra a fare quello che è giusto faccia, cioè divertire cercando di fare dei risultati. Io sono sempre nell'avviso che nel calcio non contano tanto le schematiche, cioè non so, preparare 2x7, 7x8, 8x5, 9x14. Io sono dell'avviso che bisogna tentare in tutte le maniere di portare quanto prima una palla libera nella zona pericolosa del campo e poi andare ad attaccare degli spazi. Ci sono delle partite dove sicuramente l'ampiezza della squadra avversaria ti dà delle difficoltà e il Monopoli ha giocato con una grande ampiezza con Tazzer da una parte e il Donnarumma dall'altra e quindi sono stati giocatori molto importanti per loro e noi abbiamo fatto molta fatica ad accorzarli. Quando siamo passati invece con un assetto diverso non siamo stati per niente ficcanti, non siamo stati per niente pericolosi, zero. La fase difensiva è stata sicuramente migliore. E adesso andiamo ad ascoltare subito le parole dell'allenatore del Pescara Luciano Zauri che ha annunciato che il Delfino giocherà con un nuovo assetto tattico, il 3-5-2. Anche da ritiro, quando ci eravamo detti che il sistema di gioco volevo proporre, avevo un'idea in testa e ho detto che a fine ritiro è un pochettino il punto della situazione. Una cosa non esclude l'altra, intanto un modulo, ho un'idea in testa che il modulo sia importante ovviamente, ma è sempre interpretazione dei singoli, della squadra che fa differenze, che ovviamente giocare a 5, a 7, a 9, se andiamo tutti avanti abbiamo un effetto. Sono sempre i principi di gioco, chiaramente l'ultima partita ha detto che abbiamo delle difficoltà evidenti, guarda la vista nell'ultima uscita non è piaciuta per primo a me, ovviamente anche alla squadra e quindi abbiamo provato a fare qualcos'altro. La stessa cosa che faccio io con la squadra, il Presidente è la persona con cui parlo di più, il Presidente prima di dirlo a voi l'ha detto a me le cose, per cui io sono fio diretto o non diretto di più col Presidente, qui mi ci ha messo lui, sarebbe impensabile non avere rapporto con il Presidente, è follia, quindi il Presidente le cose che dice a voi le ha dette a me, anzi a me le dice pure di più, quindi mi auguro. Quindi c'è la massima… ma io non ho bisogno di essere assicurato, io rimango, se ne perdo tutte e me ne vado, è uguale, non è che… non godo di nessuna campana di vetro. Tante sfide importanti per le abruzzesi nel sesto turno di Serie D. Al Savini di Notaresco i Rossoblu affrontano il Pineto, l'Avezzano dopo una settimana convulsa culminata con il ritorno di Gianni Paris ha il secondo match interno consecutivo. Tutte le sfide delle squadre della nostra regione nel servizio. Notaresco Pineto al Savini è lo scontro principale per la nostra regione nella sesta giornata di andata in Serie D. I Rossoblu primi in classifica e in coabitazione con la Re Canatese devono confermare il momento super che stanno attraversando. Nelle Marche oltre alla vittoria hanno scoperto il talento purissimo di Icramelà, autore di un gol sensazionale. Ma dall'altra parte ci sarà un Pineto reduce dal successo tra le mura amiche col Campobasso che se da una parte ha inguaiato i lupi molisani, dall'altra potrebbe aver segnato la svolta del campionato dei biancazzurri di Massimo Epifani che guida la truppa degli ex. Lui che ha guidato per quattro stagioni la squadra del presidente Salvatore Di Giovanni a San Nicolò vincendo il campionato di eccellenza a suon di record, poi tre campionati di Serie D con i playoff e grandi risultati prima dell'addio. Dalla parte opposta invece c'è Marco Pomante in gol a Re Canati ma che nelle ultime stagioni è stato il baluardo della difesa pinetese e che adesso in coppia con Davide e Salvatori dovrà contenere l'attacco adriatico. A Notaresco non ci saranno gli infortunati della querce Alessandro ma Epifani può contare su speranza. L'altra coca polista, la Re Canatesi invece, si recherà al Fadini di Giulianova, la squadra di Federico del Grosso, soprattutto tra le mura amiche e avversario molto pericoloso. Dietro ha trovato solidità anche quando, come ad Agnone mancato di Amutene e davanti Suriano, Barlafante e Fioretti sanno come colpire. Anche qui per il tecnico ospite sarà una gara particolare con Federico Giampaolo che torna nella sua Giulianova. Dopo la sconfitta pesante contro il Matelica che ha appena cambiato guida tecnica con la Vitto per Battistini, il Chieti senza lo squalificato Fantauzzi deve ritrovare successo contro il Cattolica che finora non ha mai vinto. Clamorose le difficoltà dei Romagnoli che sono riusciti a strappare solo un punticino con l'Agnonese. I Nero Verdi hanno assimilato lo stop pesante ma grandoni alle risorse per ripartire di slancio e guadagnare quei punti importanti per cominciare a costruire l'architettura della salvezza prima di chissà sognare qualcos'altro. Rilanciata dalla vittoria interna con la Sangiustese, Lavastese incontra un'altra compagine che finora non ha mai preso i tre punti, la Jesina. Le reti di Dos Santos, Cecchino ormai infallibile e Palumbo hanno steso i marchigiani aspettando che anche Esposito prenda le misure in zona gol. Quello del Carotti per la squadra di Amelia è un match che può inserire gli aragonesi nella parte alta della graduatoria. Le oncelli che sono reduci invece dalla sconfitta da Vezzano con i marsicani veri protagonisti fuori dal campo della settimana. Prima l'arrivo di Serraiocco poi le dimissioni in massa in primis dell'ormai ex presidente Luciano D'Alessandro per arrivare infine al ritorno di Gianni Paris. Settimana convulsa a dir poco, in panchina contro il Tolentino andrà ancora Vaccaro in attesa di capire se la sua figura sarà confermata o come ha dichiarato anche Paris si potrà riaprire la strada che porta ad un ritorno di Meco Monaco esonerato due settimane fa. La situazione è in evoluzione ma la classifica chiede al secondo match interno consecutivo un altro bottino di punti per allontanarsi dalla zona caldissima. In attesa che la situazione dirigenziale più definita possa permettere ai biancoverdi di poter trovare quella stabilità indispensabile da qui alla fine del campionato. E con la serie D concludiamo qui il nostro telegiornale. Tutti quanti i servizi li potete recuperare sul sito www.tv6.it oppure sul canale YouTube della nostra emittente. Il TG6 torna alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.